Ciao alla gente benvenuti in mio canale oggi invece sono all'avventura con mia amica i due cagnonini cali e leone siamo arrivati a un paesino molto 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 carino infatti lo vedrete dopo e niente spero che vi piaci questo video se vi piace mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale alla prossima avventura vi lascio al video tutorial o al video proprio ciao siamo arrivati in questo paesino guardate che bellezza di posto è un paesino in montagna ah si guardate è stupendo guardate che bellissimo bellissimo posto guardate 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 che meraviglia di paesino è un paesino di montagna stupendo 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 guardate che vista spettacolare è un po' di l'acqua e guardate la montagna che c'è intorno bellissimo bello bello davvero guardate che paesino bellissimo è spettacolare sto posto e infatti che bello tutto pulito un borgo un borghetto guarda che di qua si sale guardate la casa questa cosa che porta chiù piccola che c'ha voglio andare là a vedere quella ruvina guardate i fiori è un borgo piccolissimo sentite il silenzio bellissimo finisce lì che c'è mami andiamo mami andiamo mami un garage lì come come entrano curiosità guarda che c'è anche un campo per giocare si spacca una giampa tanto per colore giù aspetta, cali cali aspetta, aspetta la mamma è lenta leone è una semi vecchia questa è bellissima molto bello tutto guarda qua ricordatevi si è proprio un tico guardate qua che bellezza dove è la macchina? la macchina è di là guardate che bellezza chi vuole trasferirsi qua? siamo scesi neanche quattro minuti dal paesino guardate cosa c'è peccato che non c'è proprio una spiaggia non c'è neanche una camminata è un lao e una diga perché c'è la diga da questa parte di qua c'è la diga però ragazzi guardate gente guardate che meraviglia se scendiamo se scendiamo in quel punto giù vedete c'è il ponte là la diga la diga che non dico che sia di là perché noi abbiamo fatto il giro con la macchina di qua siamo andate fino in fondo abbiamo capito che non c'è un punto proprio preciso mamma mamma che bello guardate che meraviglia guardate 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 che meraviglia qualcuno che ha una barchetta o qualcosa non so niente se si può andare qua non ci sono divieti non ho visto divieti però veramente spettacolare spettacolare abbiamo lasciato parcheggiata la macchina lassù spettacolare bellissimo il paesino è un puntino più là 4 minuti con la macchina andando a 20-30 all'ora perché sono stradine molto strette e tante curve sono strade per rally quindi gente che è appassionata di rally probabilmente questa zona le piacerà bello 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 comunque bella gente io stiamo un attimino qua vediamo se riusciamo ad andare a un altro punto se no se vi piace questo video se vi piace il mio canale se vi piacciono le mie novità mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un commento potete chiedermi tutto quello che volete dove si trova io vi lascio curva tutte le informazioni nella descrizione del video e voilà e questa parte fa parte anche di specchi di verne perché c'è tutto la mia giornata la mia vita la mia passeggiata con la mia patatina che abbiamo anche mister leone oggi e buona e buona